logica la tua live giacinto ti vedo più lo mio io sono curioso di vedere che differenza c'è tra la camera del pc e la camera del telefono vediamo sarà sarà notevole però sai dobbiamo fare questi tentativi insomma se poi avete voi qualcuno di voi ha dei suggerimenti fateceli arrivare perché sono sempre tu sei tu sei sicuro che siamo live beh sì dai 34 secondi penso che siamo live e buongiorno buongiorno a tutti i ragazzi consueta live delle 12 stiamo ormai in in fase di lancio l'abbiamo superato siamo in una fase consolidata di di promozione di questo grande evento che si verrà tra l'11 e il 16 maggio tutto online la ai week mamma mia questa settimana ce la stiamo lavorando ormai da metà febbraio cari amici insomma sta venendo su un evento mega galattico call stiamo mettendo su delle call con aziende di tutto spessore che ringraziamo per il loro contributo per quello che stanno facendo per la riuscita di questo magnifico evento vi ricordiamo che domani abbiamo anche una diretta di presentazione di un workshop giusto pasquale esatto perché domani mercoledì domani mercoledì alle 12 segnatevelo perché abbiamo l'opportunità di conoscere un workshop di quelli che si terranno durante la settimana di intelligenza artificiale insieme ad ellisse giusto che è una società e che è una società emiliana e si occupano di contact center di gestione in generale di quello che la il contatto tra le aziende e i consumatori e loro hanno stiamo organizzando per loro un workshop durante la settimana dell'intelligenza artificiale quindi attenti perché durante domani ci sarà questa presentazione ecco adesso è arrivata la notifica sul mio telefono ti è arrivata e vabbè facebook si prende sempre qualche minutino lo sai e vuole vedere una cosa serie bravo intanto sto condividendo sui nostri canali e ho quasi completato così mandiamo notifiche facciamo arrivare a tutti questa live oggi una live particolarmente interessante almeno per quanto mi riguarda perché parliamo degli speaker dell'area marketing oggi parliamo degli speaker dell'area marketing di tutti quei quei contenuti che ci saranno all'interno dell'area marketing anche perché pasquale prima di entrare nel nell'argomento del quindi oggi l'argomento è marketing tutte le aziende gli speaker che ci parleranno di come l'intelligenza artificiale sta modificando migliorando piattaforme o i professionisti si stanno adeguando le università si stanno adeguando a questo cambiamento ma mettiamo nei stand by un attimo questo perché voglio raccontarvi pasquale dobbiamo raccontare dei ticket ci sono dei ticket nuovi e questa cosa insomma non la diciamo noi chi la dice assolutamente sì ci sono dei ticket nuovi e che tipo di ticket come sapete per partecipare alla ea week e con partecipare intendo per seguire tutti gli oltre 28 interventi degli speaker da google ibm team chi più ne ha più ne metta e avete la possibilità da questa settimana di acquistare un ticket che fa riferimento anche solo ad una singola categoria infatti se andate sul sito ea week punto it avete la possibilità di prendere il ticket per seguire tutti gli interventi che il pass completo oppure nelle nelle varie aree ci sono degli speaker divisi per tema ieri abbiamo parlato della use case degli speaker che parleranno dei casi pratici oggi parliamo di quelli marketing quindi se volete potete anche acquistare un ticket per seguire solo alcuni speaker quindi gli interventi di una determinata area ovviamente ok sono di meno e costa meno rispetto a quello che è tutto il tutto il il panel però a piacere vostro insomma fate voi io fossi voi prendere il full però insomma abbiamo messo ci sono a disposizione questi questi pass verticali per ogni categoria quindi vogliamo fare un esempio pasquale che so il ticket del marketing il ticket del marketing che stiamo presentando adesso che valore ha e che valore avrà allora oggi per esempio parliamo dei sei speaker che fanno parte dell'area marketing sono sei ho sbaglio o sono cinque no mi sa che sono cinque cinque sono cinque speaker che fanno parte dell'area marketing quindi acquistando il pass area marketing avrai la possibilità di ascoltare alessandro bici lorenzo luce roberto calculli luca filigheddu e ilaria zampori tutto questo per la sola cifra la cifra come la vedono sul sito allora sul sito si loro compilano gli arriva poi una mail con tutti i vari ticket assolutamente sì assolutamente sì parliamo di davvero pochi euro pochi euro bene allora partiamo subito con gli speaker perché come dicevamo quest'area marketing è un'area con cinque speech veramente molto interessanti e io partirei subito da il mio bello elenco che ho qui pronto e ti dico di quelli marketing perché abbiamo già più i titoli ma abbiamo i titoli di tutti allora partiamo in ordine di come mi sono apparsi partiamo con lorenzo luce dell'azienda file se lui è il ceo di big profile si occupano di segmentazione e targetizzazione di aziende soprattutto per chi ha tantissimi clienti quindi big company con tanti clienti e vuoi sapere il titolo del suo intervento e mai per me è una novità quindi allora l'intervento l'intervento di lorenzo che avrà una durata di un'ora quindi l'intervento diciamo il più in luce della della settimana dell'intelligenza artificiale col ticket marketing si parlerà di sales artificial intelligence come l'intelligenza artificiale può aumentare le vendite quindi attenzione per tutti quelli che stanno cercando di trovare una soluzione per vendere di più lorenzo luce ci farà capire come questa cosa è possibile molto poi pasquale questo questo diciamo in una giornata poi il giorno successivo avremo anche luca filigheddu di paperlite paperlite anche lui il ceo di questa compagnia loro si occupano di piattaforme e lui ci parlerà di applicazioni di intelligenza artificiale per i contenuti c'è come oggi l'intelligenza artificiale aiuta il mondo dell'editoria della creazione dei content con piattaforme algoritmi e quello che serve per realizzare tutto questo terzo speaker che avremo è roberto calculli di digital box spa anche lui il ceo il founder della compagnia con cui avremo il piacere di confrontarci sugli algoritmi di intelligenza artificiale per il marketing per i marketers del futuro quindi algoritmi di artificial intelligence per il marketing del futuro per passare al prof alessandro bigi il mitico prof alessandro bigi dell'università della east london vi ricordo che c'è anche una puntata carinissima che abbiamo girato sul nostro podcast a proposito ieri non ho puntato nel podcast pasquale fantastica poi ne parliamo alessandro bigi che è un diciamo è docente in università dell'est london e anche attività di ricerca molto importante ci parlerà di un tema molto caro a te cioè di come il marketing davvero si sta modificando grazie all'intelligenza artificiale vero e il titolo è pensa per me o pensa con me il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle decisioni strategiche di marketing wow 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 e questa sarà la mia tesi quindi potete immaginare quanto sarò eccitato durante questo intervento prenderò appunti mentre mentre facciamo un intervento prenderò appunti e poi arriva il area zampori di quant cast che una multinazionale americana con cui avremo il piacere di parlare di automation of advertising quindi tutta la parte automazione piattaforma di questa qua come la tecnologia impatterà il futuro del marketing wow 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 io penso che queste questi cinque questi cinque interventi area marketing valgano il prezzo di tutta le ai week e invece il ticket per l'area marketing è davvero piccolo 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 quindi mi raccomando ai week punto it per guardare tutti gli altri speaker farvi ma magari un giro un approfondimento e cercare di capire anche quali possono essere altri interventi interessanti al di fuori dell'area marketing e comunque avere la possibilità di prendere il pass per seguirli basterà lasciare i vostri dati è in automatico vi appare una pagina con tutti i vari ticket e voi scegliete quello che volete bene ottimo allora ripetiamo anche gli eventi che ci distanziano da qui domani venerdì domani abbiamo un intervento alla rinascita digitale sì avevo scritto un po di post avevo scritto un po di post ma oggi ne faremo altri è un evento alle 17 non perdetevelo perché è il nostro modello di webinar online in cui vi mostriamo come montiamo una puntata del podcast siamo rodati ormai siamo rodati dal vivo una puntata del podcast parleremo di intelligenza artificiale parleremo di applicazioni di intelligenza artificiale tutto dal vivo domani alle 17 se non l'hai fatto vai a cercare di rinascita digitale e iscriviti invece domani alle ore 12 presentiamo il primo dei workshop che è il workshop di ellisse che domani la presentazione alle 12 il workshop invece aspetta non mi far fare delle gaffe perché qua rischiamo rischiamo la pelle allora il workshop di ellisse è il 13 di maggio quindi durante la settimana dell'intelligenza artificiale 8 il 13 maggio ci sarà alle ore 10 e 30 il workshop di ellisse invece giovedì presentiamo con genesis insieme ad omar a mood e pierluigi pace il workshop invece di genesis che interrà l'11 maggio alle ore 10 e 30 esatto 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 tanta roba questa settimana ci avviciniamo quindi ad una pasqua ricca 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 di contenuti tutti in incentrati per con tema intelligenza artificiale ma soprattutto tutti per darvi dei contenuti interessanti da portare poi in azienda per il prossimo restart quindi facciamo ora un po effetto spugna prendiamo tutto quello che ci serve perché poi ragazzi appena ci daranno il via appena apriranno i cancelli tutti quanti nelle aziende a fare cose cose nuove mi raccomando utilissimo anche prendere spunto da tutto quello che succederà l'ei week quindi se non l'hai già fatto vai sul sito ei week punto it perché la settimana dell'intelligenza artificiale sarà tutta online 11 16 maggio quindi giacinto penso che per oggi siamo a posto domani quindi non presenteremo un'altra area ma faremo la presentazione del workshop di ellis domani presentazione del workshop di ellis non mancate segnatelo se non l'avete fatto ancora andate sul nostro messenger di questa pagina e basta premere inizia credo per iscriversi alle notifiche ogni giorno vi mandiamo le notifiche di quando siamo in diretta e andate sul sito scoprite un po quello che che è questa settimana insomma incuriositevi fateci delle domande noi siamo qui per rispondervi stiamo preparando un evento straordinario guarda davvero cioè va bene non si può perdere bene allora pasquale buon buon pranzo cosa mangi oggi a boh mangi ma non si sa perché sicuramente dipende dalla chef dipende dalla scella oggi esatto fantasia sua ragazzi buon pranzo a tutti ci vediamo ciao buon pranzo ciao